Siamo allo stand Salomon con Alfredo Valle che ci illustra il premio che ha ricevuto Salomon per una grande innovazione nel campo degli sci sulla pista. Sì, abbiamo completamente cambiato modo di pensare allo sci da gara, non parlando più di sci da gigante o da slalom, ma parlare di uno sci che segua le caratteristiche dell'osciatore, dell'utilizzatore finale in funzione delle misure, della lunghezza, della velocità e delle caratteristiche e del livello dello sciatore stesso. Il nuovo X-Race ha delle geometrie variabili a secondo della misura, con misure che partono dal 155 al 180, la scelta è in funzione appunto dalle caratteristiche personali dello sciatore. Amo la velocità, andrò su misure che mi permettono di avere stabilità e performance, o la curva stretta, con misure più corte, adatte appunto a un raggio più stretto. Le caratteristiche principali sono quello di aver preso tutta la tecnologia degli sci da gara di Coppa del Mondo, quindi portarle su uno sci non più da gara, non più seguendo le regole FIS molto origine, ma su sci che hanno raggi da 11 a 19 metri. Il target ideale qual è? Un ex atleta che smette di far gare, mantiene le caratteristiche di qualità e di performance abituato, alle quali era abituato, ma su uno sci che gli permette di divertirsi, sempre con le massime prestazioni. Quindi tecnologia identica agli sci di Coppa del Mondo, piastre identiche agli di Coppa del Mondo, con l'opzione di due attacchi, un attacco Z e un attacco X, ossia uno più versatile, che rende lo sci più facile, o l'attacco X, che è lo stesso attacco usato in gara, che amplifica quelle che sono tutte le caratteristiche di performance dello sci stesso. Ma per divertirsi in pista, voi avete un'altra novità, avete un nuovo scarpone che adesso ci illustrerai. Abbiamo il nuovo X-Pro, che anche lui prende tutta la tecnologia del top di gamma degli sci da gara, portandolo però su calzate più confortevoli e per l'utilizzo ovviamente meno esasperato. Gli scarponi da sci di solito fanno male, non ci si diverte più, invece Salomon propone novità. Sì, diciamo che negli ultimi anni abbiamo fatto molto per evitare dolori e predo e quindi migliorare il comfort. La nuova scarpa X-Pro, anche lei ha preso le caratteristiche basilari della scarpa top top di gamma, quindi la scarpa da gara o di alta gamma. I concetti principali sono quelli di avere un comfort estremo, eccezionale e la possibilità di personalizzare la scarpa al proprio piede. Abbiamo uno scafo a due densità, una parte bassa con uno chassis molto rigido per la trasmissione e una parte centrale che è un materiale differente, customizzabile. Vuol dire che con un sistema, una procedura molto semplice possiamo adattare la scarpa alla forma del nostro piede, quindi la pianta e il collo del piede. Il tutto in maniera molto facile e sicura. Oltre alla scarpetta interamente termoformabile, quindi anche lei customizzabile, questo per adattare la scarpetta alla morfologia del piede, quindi una scarpa a su misura fatta in maniera molto semplice. Altra caratteristica derivata dallo scarpone da gara sono gli oversize pivot, cioè due snodi molto ampi, molto più grandi di normale, questo perché la trasmissione degli impulsi non si disperde e viene distribuita in maniera molto più ampia su tutta la parte avampiede. Oltre a questo abbiamo l'adattabilità dei ganci 3D con poter inclinare la trazione del gancio più verso il tallone piuttosto che sulla pianta, anche qui seguendo la forma e la misura del collo del piede dello sciatore, il tutto su un flex che parte da 120 a 80, quindi sciatore pesante, forte, robusto, ma anche sciatori più leggeri che comunque possono beneficiare tutte le caratteristiche della scarpa. La versione è identica, con le stesse caratteristiche per la donna, quindi un'attenzione particolare per la donna, morfologia femminile diversa da quella dell'uomo, con flex, altezze, inclinazioni, posizioni del tallone, specifiche per la donna, il tutto con una leggerezza, oggi tra le più leggeri al mondo come scarpe da... Ma non ci resta che provare sulla neve adesso? Rimane che provarla sulla neve, sia lo sci che lo scarpone. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a voi.